L'attesa per domani è palpabile in una città che non è facile nel dimostrare il proprio entusiasmo. I barchi di accesso a Piazza Unità in occasione della Santa Messa, che come noto Papa Francesco celebrerà domani a conclusione della cinquantesima settimana sociale dei cattolici in Italia, apriranno dalle 6 alle 9. Il passe in possesso dei fedeli indica il barco dal quale sarà possibile accedere e il settore loro assegnato. Volontari della protezione civile della settimana sociale saranno a disposizione per aiutare le persone ad accedere e a recarsi nei settori assegnati. Saranno distribuiti il libretto della messa, un cappellino per proteggersi dal sole e saranno a disposizione bottiglie d'acqua. È sconsigliato portare con sé zaini e borse voluminose che rallenterebbero i controlli d'accesso, laddove sarà vietato portare ombrelli, borracce, lattine, bottiglie in vetro ed oggetti a punti. Lungo le rive, da Via Milano a Piazza Venezia e in alcune strade adiacenti, il traffico sarà interdetto. Per le persone che non sono in possesso del pass ma volessero in ogni caso seguire la messa dal vivo, sono stati predisposti due maxischermi sulle rive, fuori dal perimetro di Piazza Unità, lato Prefettura e Palazzo della Regione. Telequattro, ancora una volta servizio pubblico, non solo per la città e la Regione, seguirà la mattinata triestina del Papa con una diretta che inizierà domani alle 7 del mattino per aspettare l'arrivo di Papa Francesco previsto attorno alle 8 al Centro Congresso in Portovecchio. Quindi, chiuso l'appuntamento con le giornate, il trasferimento del Pontefice fino in Piazza Unità, dove la celebrazione della Santa Messa è prevista iniziare alle ore 10 per concludersi attorno alle 12. Il Papa ripartirà verso Roma presumibilmente alle 12.30. Il Vescovo Trevisi, soddisfatto del risultato di questi cinque giorni, ne sottolinea un aspetto. Anche la partecipazione nelle piazze democratiche agli stand, io penso che sia stato un segnale, un termometro che dice sì, l'intento di fare in modo che non fosse soltanto un congresso per dei delegati, ma che la settimana sociale coinvolgesse la città, certamente si è riusciti in questo intento. Attenzione, però, aggiunge il Vescovo, la settimana non si conclude con la visita del Papa, cheppure ne è l'apice. Di spazi da riprendere, di momenti da rielaborare ce ne saranno tanti. Però è anche questa la sfida, cioè non vogliamo celebrare un evento che poi domenica pomeriggio è già tutto finito. Invece avere tracciate delle piste sulle quali lavorare. Grazie. 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 Grazie.